La scuola è la scuola. La scuola è la scuola. La scuola è la scuola. Il nostro aereo spia è in volo. La scuola è la scuola. La scuola è la scuola. La scuola è la scuola. Approvvigionamenti alleati in arrivo. Approvvigionamenti pronti per la consegna. Indicateci la destinazione. Approvvigionamenti pronti per la consegna. Indicateci la destinazione. Approvvigionamenti alleati in arrivo. Il nostro aereo spia è in volo. Aereo spia disponibile. Aereo spia pronto. Aereo spia nemico sopra di voi. Aereo spia pronto. Aereo spia alleato in arrivo. Aereo spia disponibile. Il nostro aereo spia è in volo. aereo in arrivo. Aereo spia il minimo. Il nostro aereo spia è in volo. Aereo spia nemico in arrivo. La vittoria è vicina, non dobbiamo mollare. Approvvigionamenti alleati in arrivo. Aereo spia nemico sopra di voi. R-CXT alleato operativo. Il nostro aereo spia in volo. Aereo spia pronto. Aereo spia nemico sopra di voi. Aereo spia pronto. Il nostro aereo spia in volo. Ottimo lavoro squadra, restate in attesa di ordine. Il nostro aereo spia in attesa di ordine. Il nostro aereo spia in attesa di ordine. Il nostro aereo spia in attesa di ordine. Grazie.